Musica Sono qui a Soveria ed è un appuntamento fisso per me e per gli antichi rapporti di amicizia con Mario Caligiuri quindi la cultura, la Calabria e Mario Caligiuri oggi l'amico Vittorio Sgarbi sono i motivi per cui mi hanno indotto a essere qui la Calabria è al momento cruciale, credo che per come la mia, io sono sindaco di una comunità che per motivi e per scelta diretta non è più la città di Rossano, si è fuso con Corigliano quindi siamo in una transizione di un anno e quando io ho detto che la fusione è importante, la fusione nasce in un momento storico dove la Calabria deve svoltare rapidamente tra le possibilità e le necessità e che la cultura, le nostre bellezze che tante volte Vittorio è venuto spesso a Rossano che l'ama molto come ama tante cittadine piccole e grandi della Calabria quindi credo che si riparta dal turismo ma si riparta dall'accoglienza ma prima di tutto si deve ripartire dalle nostre bellezze che sono quindi l'arte e la storia delle nostre comunità quindi è un motivo di crescita perché con Vittorio è chiaro che le serate sono sempre molto leggeri è una persona di grande qualità, non devo dirlo io, per cui ripeto sarà sicuramente una serata interessante io ringrazio Caligiuri della grande sua disponibilità nell'invitarmi qui ogni anno, grazie e quando vuoi... e quando vuoi... e quando vuoi...